Pupino, sbustiamo? No, le carte Pokémon! E beh, stai fermo, stai! Che è successo? I guanti, mangi e metti i guanti! Senti, Fredda, le mani? Non sia mai che trovo Charizard o le dita unte! Ma che fai? Fritta il McDonald's e dita unte! Possiamo? Stai fermo, stai! E che si muove? Le radici sto facendo per quattro bustine qua! Bisturi! Ma che devi fa? Avevi se c'è una mia o questo coso? Non sia mai che piego Charizard aprendo la bustina! Ora possiamo? Stai fermo, stai! Ma che fai? Sto ordinando una brandina, faccio unte qua! La mascherina è importante! Sei raffreddato? Non sia mai che sputo Charizard mentre sfoglio le carte! Ma non sia mai che la trovi! Ma guarda come stai combinando! Senti qua, dottor House, il manicom è da quella parte! Vai, vai!